edizione straordinaria cari amiche e cari amici edizione straordinaria perché ci sono delle notizie innanzitutto mi invito a iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione che cosa succede perché ho scritto che si complica l'affare Fofanà per il Milan non c'entra non c'entra al limite nemmeno il Monaco ma che cosa è successo il Monaco aveva in ogni caso individuato appunto perché sapeva della possibilità di perdere Fofanà aveva individuato in un giocatore del lance un candidato un sostituto per le stesse caratteristiche fisiche centrocampista potente bravo nell'incursione ma soprattutto bravo nel rompere le azioni degli avversari e l'aveva ben individuato come si chiama questo giocatore e che cosa è successo questo giocatore si chiama El Alnawi El Alnawi è un giocatore del lance come ho detto solamente che il 2 maggio del 2024 due mesi fa a prima di agosto tre mesi fa si è infortunato nel match contro il Marsiglia una distorsione al ginocchio può capitare il 2 maggio tre mesi fa ebbene nonostante questo il Monaco ha preso questo giocatore appunto proprio per cautelarsi vista la possibilità di perdere Fofanà solo che non è ancora uscita in Italia lo dicono i siti i siti francesi sembra che El Alnawi non abbia superato le visite mediche e c'è dunque ferma possibilità che il Monaco lo rimandi ovviamente indietro perché non si compra ogni acquisto è condizionato dal fatto di superare le visite mediche non ci sono firme da una parte e dall'altra se non vengono superate le visite mediche cosa succede che se fosse arrivato El Alnawi la trattativa per Fofanà è sempre complicata sappiamo della salita di tra 35 milioni magari le interferenze si dice di Marsiglia e Manchester e quindi sappiamo già che si era complicata nelle ultime ore però adesso è ancora più complicata perché il Monaco deve trovare deve cercare e trovare un sostituto di Fofanà prima di cedere Fofanà chiaramente l'ipotesi di tenere Fofanà per il Monaco è un'ipotesi abbastanza кошmar abbastanza un incubo perché se no rischia di perderlo a gennaio però almeno avesse trovato il sostituto diciamo così la trattativa sarebbe stata una trattativa lineare adesso invece si è complicata perché il Monaco probabilmente prima di cedere Fofanà e quindi potrebbe essere potrebbe procrastinarsi questa cessione deve trovare un'alternativa magari effettuate altre visite mediche ma da quello che mi hanno detto se è saltata la visita medica l'hanno probabilmente rimandato indietro questo è quello che è trapelato ieri e sapevamo che c'era la visita medica quello che è trapelato oggi qualche ora fa qualche minuto fa sui siti francesi quindi attenzione ecco perché ho messo l'affare Fofanà si complica ancora è ancora più complicato proprio per questo fatto dove che non vede il Milan centrale non vede il Monaco ma purtroppo la sfortuna di questo è al Naui che distorsione al ginocchio probabilmente non ha ancora superato questo problema fisico quando si parla è questo il primo tema il secondo tema della serata è l'ipotesi nonostante sia stato sia partito con il resto del gruppo l'ipotesi concretissima che dopo l'uscita di Colpani dal Monza alla Fiorentina il Monza cerchi un sostituto a centrocampo un giocatore che non ha proprio le stesse caratteristiche però serve rimpolpare la rosa e hanno individuato secondo me in maniera intelligente in Daniel Maldini l'eventuale giocatore che possa rimpolpare la rosa anche se non ha proprio le caratteristiche di Colpani magari un po più offensivo però come Colpani colpisce sotto porta come Colpani è un giocatore è un giocatore ogni anno in progresso quindi attenzione non si parla di cifre non ci sono ancora delle certezze ma si ventila che Daniel Maldini per il dispiacere anche di qualche tifoso rosso nero che l'avrebbe visto al Milan volentieri ma l'avevo detto anch'io perché non Daniel Maldini ma per vederlo diciamo così intristirsi in panchina non dico in tribuna mancherebbe altro in panchina chiaro che meglio che vada a giocare è un giocatore che sarebbe rimasto al Milan volentieri avrebbe rinnovato alle cifre che voleva il Milan avrebbe poi sarebbe andato volentieri in prestito non avrebbe voluto rompere il cordone ombelicale di uno ha iniziato nel 54 perché 70 anni fa nel settembre del 2024 si festeggeranno i 70 anni di un Maldini nel Milan e avrebbe voluto essere ancora qui a festeggiare questo compleanno della famiglia Maldini era mi sembra il 15 il 19 settembre 1954 quando ha debuttato Cesare Maldini invece nulla da fare il Daniel Maldini è candidato ad andare a Monza terzo tema si ironizza sul spesso così tanto per ironizzare ironizzare su Paolo Fonseca adesso uno delle peggiori insulti che uno possa prendere è quello di aziendalista una volta era un pregio adesso sembra che sia un difetto ebbene Paolo Fonseca viene descritto come l'allenatore al quale va bene tutto che non ha problemi aspetta i giocatori non ha problemi ad aspettare i giocatori quando arrivano arrivano non c'è problema invece è un allenatore che per esempio per esempio lo volevo metter nel titolo poi uscito questa storia di Alnawi ha voluto fortemente un giocatore l'ha scelto lui questo giocatore perché per lui è fondamentale nell'assetto della squadra e parliamo di di Emerson Royal parliamo di Emerson Royal avevo avuto una pausa perché volevo darvi questa notizia come gli ha scelti la società i giocatori no Emerson Royal l'ha voluto Fonseca e sentiamo cosa dice Luca Diddi che ha immaginato i motivi di questa scelta di Paolo Fonseca sentite l'abbiamo intervistato all'inizio della settimana ma questa intervista ovviamente ha sempre grande valore sentiamo Luca Diddi su Emerson Royal perché Emerson Royal perché comunque più difensivo secondo te non 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 ne hanno più parlato ma se è possibile che magari lasciano un po' decantare lasciano un po' decantare la cosa e poi quando il Tottenham scende per te è fondamentale Emerson Royal Emerson Royal e Milano ci vuole un giocatore alla Condé della Francia un giocatore abbastanza lì bloccato nella fase difensiva perché il Milano si troverà molte volte a tre molte volte nelle marcature preventive quindi la fascia di destra del Milano sarà la fascia di equilibrio la fascia di sinistra sarà quella più esplosiva però attenzione la fascia destra del Milano sarà di equilibrio per supportare quello che è la nuova posizione del trequartista del Milano che si acquirà sul centro-destra quindi nel centro-destra il trequartista di Milano per lasciare spazio alle A o centro-sinistra la punta sarà morata o chi arriverà queste le parole dunque di Luca Didi su Emerson Royal è giocatore che nell'entourage tra gli amici di Emerson Royal ormai c'è l'abbastanza certezza che venga al Milan la trattativa si era un po' interrotta perché c'era troppa distanza tra Milan e Tottenham e il tempo la pazienza la volontà di ambedue le società hanno permesso che le parti adesso si siano fortemente avvicinate quindi riteniamo che in questo momento ci siano buone possibilità anzi eccellenti che Emerson Royal io ho sempre sbagliato ho sempre considerato pur essendo tifoso del Tottenham e avendolo visto giocare tante volte ho sempre pensato che Emerson Royal fosse un giocatore di spinta e invece sentendo Luca Didi è proprio l'equilibratore cioè il Milan quando si metterà a tre non a tre codificato il Milan si giocherà a quattro ma quando parte sulla sinistra ci ha spiegato Luca Didi Teo Hernandez si sposta dovrebbe Pavlovich spostarsi a sinistra mettersi Tomori centrale sarà proprio Emerson Royal che garantirà l'equilibrio nella formazione rossonera perché non sarà raramente salirà lui ma salirà certamente molte più volte il suo compagno di reparto ovviamente Teo Hernandez quindi l'ha voluto Fonseca l'ha voluto fortemente Fonseca Fonseca ha le idee chiare adesso poi lo dovrà dimostrare in campo però non facciamolo più passare per quello che se gli danno un giocatore qualsiasi gli va benissimo Emerson Royal ha voluto lui probabilmente ha insistito e insiste anche per Samarzic perché il Milan non è che se l'è sognato così quindi il signor Paolo Fonseca certamente influisce e speriamo che influisca bene sulle scelte dei dirigenti del Milan cari amiche cari amici tutto dipende da Alnaui nessuno pochi lo conoscevano e adesso invece è diventato un giocatore che ulteriormente potrebbe frenare l'arrivo di Fofanà che nonostante l'incortunio di Alnaui ci auguriamo possa arrivare presto al Milan buona serata appuntamento a domani mattina cari amiche cari amici che invito sempre a iscrivervi al mio canale youtube ad attivare la campanella a mettere i vostri like e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione e attivare la campanella Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.